Un promontore interciclonico si rafforza sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche anche sulla nostra penisola. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale determinando un nuovo graduale peggioramento delle condizioni meteo anche sull'Italia. In Toscana, mercoledì 19 dicembre, nuvoloso per nubi inizialmente alte e stratificate che risulteranno via via più consistenti a partire dalle zone occidentali fino a cielo coperto dal pomeriggio. In serata, precipitazioni generalmente deboli in estensione dalle zone occidentali al resto della regione nel corso della notte, neve in appennino generalmente oltre 1000 metri, venti deboli moderati da sud-sud-est, mari generalmente mossi, temperature minime in locale aumento sulle zone settentrionali, stazionare altrove con estese gelate, massime in leggero calo. Sul territorio provinciale da velato fino a molto nuvoloso, con deboli piogge in serata, a Lucche sulla Piana temperatura minima 1, massima 10 gradi, a Castelnuovo-Garfagnana e zone montane minima 1, massima 9, a Via Regge sul litorale minima 5 e massima 13 gradi. Giovedì ancora deboli piogge ma migliora nel corso della giornata, temperature in lieve rialzo.